Conoscere l'altro per superare le differenze e rafforzare il dialogo interreligioso. E' quanto si propone la prima traduzione del Catechismo della Chiesa Cattolica in lingua forsi a cura dell'Università delle Religioni e delle Confessioni della città iraniana di Rom. La presentazione del volume a Roma è stata l'occasione per ribadire l'importanza del confronto tra cristianesimo ed Islam. Cardinal Turan, presidente del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso, ha introdotto la presentazione della traduzione del Catechismo in lingua forsi. L'importanza della traduzione in lingua forsi di questo Catechismo è molto importante perché dà la possibilità a chi non è cattolico di capire il contenuto della fede. Questo è molto importante perché lì si capisce tutto. Un dialogo che continua, un dialogo serio e direi che abbiamo scoperto che abbiamo molte cose in comune. Grazie a tutti. Grazie a tutti.